Salve, bentrovati, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Si sta facendo un gran parlare in quest'ultima settimana di pagamento della Tari e il rapporto alle pertinenze. Sono possibili dei rimborsi, per questo l'opposizione scende in campo dando delle indicazioni. Parliamo per esempio di un cittadino, in quale situazione può pensare di rientrare tra coloro che possono poi chiedere i rimborsi? Sicuramente la fascia più grande è di coloro che hanno più di una pertinenza oppure che hanno un'abitazione principale che è costituita da più particelle. Allora in questo caso tutte le particelle hanno diritto ad avere l'agevolazione della parte variabile. Oppure coloro che hanno più garage, più cantine, più solai, allora in questo caso rientrano sicuramente nella possibilità di avere una compensazione favorevole. Il rimborso dovrebbe essere attraverso un conguadio, voi chiedete anche che sia però automatizzato? Deve essere automatizzato perché parliamoci chiaro, alcune somme possono essere anche di minima importanza, 30, 40, 50, 100, 200, ma se il cittadino deve fare un contenzioso o se deve fare in autotutela una richiesta, dovrebbe indicare per i vari anni, 5 anni, perché parliamo dal 2014, gli importi da avere diritto al rimborso, chiaramente portiamo sempre i cittadini a recarsi presto gli uffici, a perdere giornate di lavoro, qualcuno non potrà andare, disabili, anziani, cose varie, quindi creare un caos. Chiediamo noi all'amministrazione che dia chiarezza su questo argomento e faccia informi ai cittadini a chi ne ha diritto e a chi non ne ha diritto. Niente più pane fresco, la domenica è entrato in vigore il decreto dell'assessore regionale alle attività produttive che regola gli orari e i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività. È entrato in vigore lunedì 20 novembre il decreto dell'assessore regionale alle attività produttive Mariella Lobello, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana numero 44 del 20 ottobre del 2017, che regola la vendita, gli orari, i requisiti professionali per l'esercizio delle attività di panificatore. L'articolo 2 del provvedimento sancisce la chiusura dei panifici nelle giornate domenicali e festive, al fine di garantire il riposo, la salute e il godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori del settore. In pratica addio pane fresco la domenica, anche se lo stesso articolo stabilisce che i sindaci, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, possono autorizzare la turnazione delle aperture domenicali in base alle esigenze dei singoli territori. Per fare ordine nel settore e garantire la professionalità degli operatori, l'articolo 3 fissa anche i requisiti per l'accesso alla professione, con la frequenza di appositi corsi di formazione e lo svolgimento dell'attività di panificatore per almeno due anni nel quinquennio presso imprese nel settore. Le organizzazioni di categoria salutano positivamente l'introduzione delle nuove regole, che definiscono un passo in avanti, già che permettono la qualificazione professionale degli addetti e di conseguenza una maggior tutela del consumatore. C'è però chi teme che la chiusura domenicale dei panifici, anche se con la turnazione, possa invece favorire la grande distribuzione, oltre che comportare un'impennata all'obusivismo, fenomeno di competenza della squadra annonaria della Polizia Municipale. Ricordiamo che per la vendita abusiva di pane nelle aree pubbliche o direttamente a domicilio sono previste sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 9.000 euro. L'Osservatorio sui diritti dell'infanzia si va verso la sua Costituzione. Il difensore dei diritti del bambino, Carla Trommino, ha convocato per il 5 dicembre prossimo l'Assemblea Costitutiva dell'Osservatorio Comunale sui diritti dell'infanzia previsto dal regolamento dell'ente. La riunione si terrà nel Salone Paolo Borsellino di Palazzo Vermexio. L'Osservatorio ha lo scopo di stimolare il coordinamento degli interventi in campo a Mirorile e ne fanno parte enti, associazioni e tutti i soggetti che a Siracusa sono impegnati nella tutela dell'infanzia o perseguono gli stessi obiettivi del difensore, ciascuno con un rappresentante. La prima convocazione è indirizzata a tutti i soggetti che già collaborano con l'ufficio del difensore e con l'amministrazione comunale o che intendono partecipare all'incontro anche senza invito. Dopo la Costituzione, altri enti e associazioni potranno chiedere di far parte dell'osservatorio. Basterà compilare un apposito modulo e inviarlo con una e-mail. Gli uffici comunicheranno l'avvenuto accreditamento entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Startup giovanili ma non soltanto per raccontare meglio Siracusa ma renderla anche più produttiva. Il sindaco Giancarlo Garozzo e l'assessore alle attività produttive Silvia Spadaro hanno presenziato stamani alla sala stampa Archimede alla cerimonia di consegna del decreto di finanziamento delle 12 start-up ammesse al relativo contributo. Ogni idea progettuale sarà destinataria di 10.000 euro messi a disposizione del Comune grazie al taglio delle indennità del sindaco e della Giunta. In un momento di crisi come questo, con il sistema bancario molto attento nella concessione di finanziamenti, Siracusa è uno dei pochi comuni nel Paese a concedere un contributo a fondo perduto, a quanti vogliono scommettersi in un'attività innovativa. L'ha detto il sindaco Giancarlo Garozzo annunciando al contempo l'intenzione dell'amministrazione di investire residui inutilizzati per un'attività di formazione pratica, fiscale ed economica che possa aiutare quanti pensano di partecipare ai prossimi bandi di start-up, a cominciare da quello del 2018. Questo, concluse il sindaco, è il quarto che abbiamo visto giusto, lo conferma la percentuale di sopravvivenza delle start-up degli anni precedenti, che supera il 90%. Creare 12 nuove imprese ed avviare almeno 24 posti di lavoro in più costituisce un grosso impulso all'economia, contribuendo allo sviluppo delle attività produttive. Lo dichiara l'assessore alle attività produttive, Silvia Spadaro. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale, studenti e tempo libero. Siracusa si accoda alle iniziative nazionali per ridurre gli eccessivi compiti a casa. Da molto tempo mi batto per l'eliminazione dei compiti a casa, soprattutto nella scuola cosiddetta dell'obbligo, per molte ragioni, perché non è mai stata dimostrata l'utilità, perché procurano disagia chi già abbia difficoltà, soprattutto i bambini e i ragazzi che provengono da ambienti disagiati, perché crea tensioni in ambito familiare, tra genitori e figli, perché procura stress e purtroppo non determina effetti apprezzabili dal punto di vista degli apprendimenti, del conseguimento delle competenze che invece la scuola dovrebbe garantire. Ho creato a questo scopo un gruppo Facebook Basta Compiti e lanciato una petizione, omonima, appunto Basta Compiti, che ha superato le 25.000 firme. Esiste anche un gruppo tecnico professionale, un gruppo Facebook, docenti e dirigenti a compiti zero, che riunisce oltre 600 docenti italiani di ogni ordine grado che non danno compiti e non ne danno, nonostante operino nelle condizioni disagiate che conosciamo tutti, insomma, quindi senza necessità di ricorrere, che so, a un produramento dell'orario scolastico o a un'integrazione dell'organico. Quindi per fare una scuola senza compiti non è necessario che ci siano più insegnanti o che aumenti il tempo a scuola. Questi 600 docenti sono la dimostrazione vivente che una scuola a compiti zero è possibile anche in Italia, nelle condizioni date. Oggi ho veramente l'onore di avere ospiti il dirigente scolastico Maurizio Parodi e il dottore Lumini, rispettivamente di Genova e Firenze, che si esprimeranno sulla spinosa questione appunto dei compiti a casa. Dunque basta compiti. Giornata di preghiera al santuario di Siracusa e gruppi che si raccontano e si raccolgono sotto il simbolo del pianto della Madonna portano in città un messaggio profondo. Vediamo qua. Incontri di preghiera e di riflessione, però da un punto di vista particolare, in questo caso è il fedele o il curioso che si fa materialmente, come diceva in questo caso, santuario. Quindi i luoghi diventano anche racconto di ciò che il fedele o il curioso prova. Io inizierei nel dire che questa è già la diciannovesima edizione dell'Incontro per la Pace a Siracusa, in un santuario. Il tema di quest'anno tocca il santuario, il concetto di santuario. La riflessione ci porta a dire che il santuario è il luogo della presenza del santo dei santi, che è il Dio. santo appunto perché è abitato da un santo, dalla santità ecco di Dio. Questo ci porta a riflettere su un altro aspetto. Qual è il santuario? Qual è il vero santuario? Ognuno di noi. Ognuno di noi è il santuario di Dio. Il santuario in un certo senso è, come dire, raccoglitore, luogo in cui i santi si uniscono, pregano, cercano Dio, luogo di preghiera, come diceva Gesù nel Vangelo. Questo è un luogo, non una spelonca di ladri, ma luogo di preghiera. Questo è il concetto di santuario. La cosa più difficile è quella di costruire il proprio santuario, cioè fare diventare la nostra vita luogo della presenza di Dio. E adesso si dice che in qualche modo debbano essere o i governi o le associazioni a parlare o agire per la pace. In questo caso invece è una riflessione anche più personale. Ma la riflessione sull'insegnamento della Chiesa ci porta a dire che la pace per il cristiano è un dono di Dio, è un valore. Però non è qualcosa che scende automaticamente dal cielo. Non è qualcosa che si fa vedendo l'uomo passivo. A me vengono in mente le parole di Giovanni Paolo II, il primo documento che scrisse l'8 dicembre del 78, quando si è per la giornata della pace. L'espressione che mi ha colpito è stata questa, che ognuno di noi è chiamato a costruire la pace. Pace che è anche dono di Dio. Quindi la pace è l'incontro tra l'impegno dell'uomo, tra la risposta dell'uomo, tra la sua volontà positiva e la grazia di Dio che dona, ecco, la pace di cui l'uomo va cercando. Lo sport, ieri il Siracusa ha incontrato il Catanzaro. Vediamo come è andato. Grazie ad una doppietta del siracusano Tino Parisi, il Siracusa batte il Catanzaro per 2-1 e torna alla vittoria al Desimone dopo un mese. Bianco non può disporre degli infortunati Martinez, Turati e Magnani. Decide per confermare la difesa a tre, con Daffara, Mucciante e De Vito davanti al portiere Tomei. Di otto occasioni da gol subito per il Siracusa con un bel cross di Palermo, colpo di testa di Bernardo, palla fuori di un soffio, ma il gol del vantaggio arriva presto, angolo di Mancino con Parisi che mette dentro al volo di piatto. La reazione del Catanzaro con Sirri, che di sinistro dalla distanza impegna Tomei, quindi contropiede azzurro, Mancino per Catania, palla fuori di poco. Clamoroso il gol fallito dagli ospiti con Sirri, in sforbiciata, palla a terra Tomei, poi è Falcone a sfiorare il palo, seguito dalla conclusione al volo di Nicoletti, che non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa subito grande azione degli azzurri, con Mancino che pennella di sinistro per Parisi, che di testa trova l'incroce dei pali di Nordi, ma il Catanzaro resta in dieci per l'espulsione, per il doppio giallo di Dinunzio, che ferma Catania in ripartenza. Siracusa pericoloso in contropiede, prima con Catania, con un sinistro fuori, poi con Parisi di destro alto, ma come spesso succede nel calcio, gol sbagliati, gol subito, Falcone si ritrova un pallone da indirizzare in porta, con Tomei che non può fare nulla. Entra Scardina per Catania, e subito il bomber azzurro si fa vedere con un sinistro che Nordi blocca a terra, facendo seguito ad una parata precedente sul tiro di Giordano. Ultimo cambio giallorosso con Kunzi per Zanini, Genici tenta così il tutto per tutto, ma il risultato resta invariato, e il Siracusa può mantenere il quarto posto solitario in classifica. Domenica prossima trasferta pugliese in quel di Bisceglie. Bene, con questo è tutto, era l'ultimo servizio, il The Giornale si conclude, vi auguriamo un buon bel proseguimento di programma. Grazie a tutti. Grazie a tutti.